Nuove opportunità economiche in arrivo per gli asili nido comunali in Sicilia. Un avviso pubblico, infatti, ha emanato l'assessorato regionale della famiglia e servizi sociali stanzi a quasi 8 milioni di euro per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria di questo servizio. Serviranno in un caso a ridurre la retta a carico delle famiglie, dei bambini iscritti nell'altro, per l'apertura del nuovo servizio di nido o micronido comunale. Dall'imminente pubblicazione poi nella Gazzetta Ufficiale, i comuni interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare istanze di contributo e la crescita educativa dell'infanzia siciliana, ha commentato l'assessore Marielle Polito, soprattutto perché crediamo nei benefici per la crescita dei bambini in una fase così delicata della loro vita, fa parte appunto di questo servizio. E in parallelo, ha aggiunto l'esponente del governo musulmanci, abbiamo pensato anche ai comuni siciliani in difficoltà e una parte dei contributi sarà infatti riservata agli enti strutturalmente deficitari e a quelli a quali sussistano squilibri strutturali di bilancio e qui in grado di provocare un distesso finanziario oppure a quelli che già lo hanno deliberato.